ne ho viste di cose strane e di ragazze bizzarre tanto tempo fa quando ero canottiere quante volte ho provato il desiderio di scrivere un libretto intitolato sulla senna per raccontare quella vita vigorosa e spensierata gioconda e misera festosa gagliarda e chiassosa la mia dai 20 ai 30 anni ero un impiegato senza quattrini ora sono un uomo arrivato che può buttar via grosse somme per il capriccio di un istante avevo in cuore mille desideri modesti e inattuabili che mi abbellivano l'esistenza con ogni sorta di speranza immaginarie oggi non saprei proprio quale ghiribizzo potrebbe farmi alzare dalla poltrona dove sonnecchio come era semplice e piacevole ma pur sempre difficile vivere così fra l'ufficio a parigi e il fiume ad argentail la mia grande la mia unica la mia attravolgente passione per dieci anni è stata la senna oh che bel fiume calmo vario e fetido pieno di miraggi ed immondizie l'ho tanto amato credo perché se non erro ma dato il senso della vita ah le passeggiate lungo le sponde fiorite le mie amiche ranocchie che sognavano col vento al fresco su una foglia di ninfea e i gigli d'acqua civettuoli e fragili tra le alte erbe sottili dell'improvviso dietro un salice quando un martin pescatore fuggiva davanti ai miei passi come una fiamma azzurra mi aprivano sotto gli occhi una pagina d'album giapponese tutto questo l'ho amato guardandolo con un amore estintivo che si spandeva in tutto il mio essere mentre ero invaso da una gioia spontanea e profonda come altri rammentano dolci notti in me vive il ricordo di albe nella bruma mattutina di ondeggianti erranti vapori pallidi come la morte prima dell'aurora poi al primo raggio di sole che sfiora i prati soffusi di rosa da rapirti il cuore e ho ricordi di luna quando l'acqua fremente frusciante diventava tutta d'argento in una luce chiara che faceva fiorire i sogni simbolo dell'eterna illusione tutto nasceva per me dall'acqua quasi stagnante che trasportava verso il mare tutte le lordure di parigi e che vita allegra con i compagni eravamo in cinque tutta una brigata oggi persone serie ed essendo poveri tutti e cinque avevamo fondato in un'orrida bettola di argentail un'indescrivibile colonia che disponeva in tutto di un dormitorio comune dove ho passato di sicuro le serate più pazze della mia esistenza non ci curavamo d'altro che di spassarcela e di remare perché per noi ad eccezione di uno solo il remo era una religione mi rammento di avventure così singolari di scarsi talmente inverosimili inventati da quei cinque malandrini che oggi non potrebbe crederci nessuno nessuno vive più così neppure sulla senna perché è morta nelle anime d'oggi quella furia che scatenava la nostra fantasia in cinque possedevamo un solo battello acquistato a fatica su cui abbiamo riso come non rideremo mai più era una larga iole un po pesante ma solida spaziosa e comoda non starò a farvi il ritratto di tutti noi ce n'era uno bassetto furbissimo che chiamavamo telegramma un altro dall'aria selvaggia occhi grigi e capelli neri soprannominato tomahawk un altro spiritoso e pigro detto berretto il solo che non toccasse mai un remo con la scusa che avrebbe fatto rovesciare la barca uno sottile elegante agghindato aveva il nomignolo di monocolo con allusione al romanzo allora recente di leon claudel e al monocolo che portava e c'ero io infine che ero stato ribattezzato joseph prunier si viveva in perfetta armonia col solo rammarico di non avere una timoniera una donna indispensabile in un'imbarcazione da di porto indispensabile perché tiene dai sti lo spirito e il cuore perché infonda energia diverte distrae eccitante e perché è decorativa con un ombrellino rosso che scorre lungo le verdi rive ma per noi cinque dissimili dai più non ci voleva una timoniera qualunque ce ne voleva una rara bizzarra disposta a tutto una donnina pressapoco introvabile insomma ne avevamo provate parecchie di ragazze timoniere ma i risultati erano stati negativi non erano vere timoniere ma cannottiere sciocche le quali preferivano tutte il vinetto che dà alla testa all'acqua che corre e porta le iole le tenevamo per una domenica e poi le salutavamo con indifferenza finalmente sabato sera monocolo ci condusse una ragazzina esile vivace saltellante impertinente e piena ad un brio originale di quella bizzarra originalità che nei monelli maschi e femmine sbocciati sui marciapiedi di parigi sostituisce lo spirito vero e proprio non era bella ma carina un abbozzo di donna una di quelle figurine che i bravi disegnatori schizzano con pochi tratti su una tovaglia di trattoria dopo cena fra un bicchierino d'acquavite e una sigaretta la natura ne fa talvolta qualcuna proprio così la prima sera quella piccina ci meravigliò ci divertì e ci lasciò senza un'opinione precisa sul conto suo tanto ci aveva sorpresi capitata in quel covo di giovanotti pronti a commettere qualunque pazzia divenne poi in pochi giorni padrona del campo ci aveva affascinati tutti e cinque nata forse con in corpo un bicchiere di assenzio che sua madre doveva aver ingollato al momento del parto era rimasta col cervello ebbro e non si era più liberata di quell'ebrietà perché diceva la sua balia aveva il vezzo di rinfrescarsi il sangue con sorsi di rata fia piuttosto frequenti lei stessa chiamava la sua sacra famiglia le bottiglie allineate dietro i banchi delle osterie non so chi di noi la battezzasse mosca né perché le si desse questo nome ma le si addiceva e le rimase e la nostra iole che si chiamava foglia a rovescio portò ogni domenica cullandoli sulle onde della senna fra asnie e maison lafitte cinque giovanotti allegri e robusti governati sotto un ombrellino di carta colorata da una creatura vivace e sventata che li trattava come schiavi incaricati di condurla a spasso sull'acqua e a cui essi volevano un gran bene le volevamo bene tutti e cinque da principio per una quantità di ragioni e poi per una sola chiacchierando al vento che correva sull'acqua lei era la poppa della nostra barca una specie di piccolo mulino di parole parlava per di fiato appunto con lieve incessante ronzio di quei meccanismi alati che girano al soffiar della brezza e diceva stordita le cose più imprevedibili più buffe più curiose in quel cervello di cui tutte le parti dovevano essere disparate come tante pezze d'ogni sorta e d'ogni colore non cucite insieme ma soltanto imbastite alla meglio c'era qualcosa di fantastico come nelle favole qualcosa di salace di impudico di imprudente di imprevisto di comico se ne traevano sensazioni d'aria libera di luce viva e di vasto paesaggio come in un viaggio in pallone si rivolgeva una mosca domande per provocare risposte e trovate chissà dove la domanda più frequente era questa perché ti chiamiamo mosca? e lei improvvisava ragioni talmente inverosimili che dovevamo smettere di remare per ridere a crepapelle ci piaceva anche come donna e una volta Berretto che non remava mai e che se ne stava per giornate intere seduto accanto a lei presso il timone rispose lui alla solita domanda la chiamiamo mosca perché è una piccola cantaride sì una di quelle piccole cantaridi che ronzano e danno la febbre non era no la classica cantaride che intossica la lucciola cantaride d'un verde bronzo ma una piccola cantaride dalle alucce rosse che cominciava a turbare stranamente l'equipaggio della foglia a rovescio e quante sciocche facezie a proposito di quella foglia vista come la vedono gli innamorati sdraiati sotto gli alberi sulla quale sarà posata quella mosca monocolo quando mosca era venuta sull'aiole aveva assunto fra noi un'aria di superiorità l'aria d'untale che ha per sé una donna in mezzo ad altri quattro che non ne hanno qualche volta ci esasperava col baciare mosca in nostra presenza col farsela sedere sulla ginocchia alla fine dei pasti e con l'attribuirsi molti altri privilegi che ci umiliavano e ci irritavano nel dormitorio avevamo isolato la coppia per mezzo di una tenda ma io non tardai ad accorgermi che ognuno di noi quattro solitari faceva dentro di sé pressa poco lo stesso ragionamento perché? per quale legge eccezionale? per qual principio inaccettabile? mosca se non sembrava impacciata da alcun pregiudizio avrebbe dovuto essere fedele al suo amante mentre le signore delle migliore società non lo sono ai loro mariti la nostra riflessione era questa presto ne fummo convinti soltanto avremmo dovuto farla prima per non dover rimpiangere il tempo perduto mosca tradì monocolo con tutti gli altri nocchieri della foglia a rovescio gli fu infedele con facilità senza resistenza alla prima richiesta di ciascuno di noi dio mio lo so i borghizucci ne saranno indignati ma perché? esiste forse una cortigiana in voga che non abbia una dozzina di amanti ognuno dei quali sia tanto stupido da non saperlo non è forse di moda avere una serata da una signora tenuta da tutti in gran considerazione come sia una serata all'Opera o alla Comédie Francaise o all'Odeon da quando vi si recitano testi quasi classici ci si mette in dieci per sopperire alle spese di una donnina galante che distribuisce il suo tempo in un modo piuttosto laborioso come ci si mette in dieci per possedere un cavallo da corsa montato da un solo fantino vera immagine dell'amante del cuore per un senso di delicatezza lasciavamo Mosca al nostro compagno dalla sera del sabato al mattino del lunedì i giorni di navigazione erano per lui lo tradivamo soltanto durante la settimana fuori dalla Senna a Parigi così che questo da parte di canottieri come noi quasi non era più un tradimento nel nostro caso c'era questa circostanza speciale che i quattro che ottenevano a turno ai favori di Mosca sapevano perfettamente come andavano le cose e parlavano tra loro e anche a lei con allusioni velate che la facevano ridere di gusto solamente Monocolo sembrava all'oscuro di tutto questa posizione speciale faceva nascere tra lui e noi una specie di imbarazzo sembrava metterlo in disparte isolarlo innalzare una barriera attraverso la nostra vecchia fiduciosa intimità gli attribuivamo una parte difficile un po' ridicola una parte dell'amante ingannato quasi del marito e sapendolo molto intelligente dotato di una speciale facoltà di canzonare senza averne l'aria ci domandavamo qualche volta con una certa inquietudine se non sospettasse qualcosa si preoccupò di informarsene in modo piuttosto spiacevole recandoci a colazione a Bouchival vogavamo con vigore quando Berretto che proprio quella mattina aveva un aspetto trionfale da uomo soddisfatto e seduto a fianco alla timoniera sembrava a parer nostro stringersi a lei un po' troppo sfacciatamente fermò la vogata gridando stop gli otto remi uscirono dall'acqua allora quello rivolgendosi alla vicina domandò perché ti chiami Mosca? prima che la ragazza avesse potuto rispondere la voce di monocolo seduto a prua seccamente scandì perché si posa su tutte le carogne si fece un gran silenzio e nacque un generale imbarazzo cui seguì una certa voglia di ridere perfino Mosca rimase interdetta allora Berretto domandò voga tutto l'aiole si rimise in cammino l'incidente era chiuso splendeva la luce questo piccolo fatto non mutò in nulla le nostre abitudini anzi servì a ristabilire i rapporti cordiali tra noi e monocolo che ridiventò il proprietario rispettato di Mosca dal sabato al lunedì mattina e col riconoscimento bene affermato di tale superiorità chiuse l'epoca delle domande sul nome di Mosca ci accontentammo dall'ora in poi nel ruolo secondario di amici riconoscenti e riguardosi che approfittavano discretamente dei giorni feriali senza che mai sorgesse tra noi qualche contestazione tutto andò bene per circa tre mesi ma ecco che d'un tratto Mosca prese di fronte a tutti noi un atteggiamento strano era meno allegra nervosa inquieta quasi irritabile le domandavamo di continuo ma che hai? lei rispondeva niente lasciatemi in pace la rivelazione ci venne da monocolo un sabato sera eravamo a tavola nella stanzetta che il nostro oste Barbichon ci riservava nella sua bettola e mangiata la minestra aspettavamo il fritto di pesce quando il nostro amico che sembrava anche lui preoccupato prese la mano di Mosca e ci disse cari compagni vi devo fare una comunicazione molto grave che forse provocherà una lunga discussione ma non ci mancherà modo di discorrere fra una portata e l'altra sappiate dunque che la nostra povera Mosca mi ha dato una notizia disastrosa e nello stesso tempo mi ha incaricato di informarvene Mosca è incinta aggiungo soltanto che non dobbiamo abbandonarla in questa circostanza e che è proibita la ricerca della paternità seguì un momento di stupore avevamo la sensazione di una catastrofe ci guardammo l'un l'altro con la voglia di incolpare qualcuno ma chi io non avevo mai sentito come in quel momento la perfidia della beffarda natura che non consente mai a un uomo di sapere con certezza se è o non è il vero padre di suo figlio poi a poco a poco si insinuò in noi un vago senso di consolazione prodotto da un confuso sentimento di solidarietà Tomahawk che parlava poco espresse laconicamente quel nostro ritorno alla serenità che già cominciava a trasparire pazienza santo dio l'unione fa la forza portati da uno sguattero fecero il loro ingresso i ghiozzi fritti non ci gettammo sul piatto come sempre per quanto sia eravamo turbati Monocolo riprese in questa circostanza Mosca ha avuto la delicatezza di farmi una confessione completa amici siamo tutti ugualmente colpevoli diamoci la mano e adottiamo il bambino la decisione fu presa all'unanimità col braccio teso verso il piatto del pesce fritto giurammo allora sentendosi improvvisamente salva liberata dal peso dell'orribile preoccupazione che tormentava da un mese quella mendicante d'amore graziosa e squilibrata Mosca esclamò oh amici amici miei siete generosi generosi sì che bravi ragazzi grazie a tutti e per la prima volta pianse davanti a noi ormai sulla barca parlavamo del bambino come se fosse già nato e ognuno di noi si interessava con sollecitudine eccessiva allo sviluppo lento e regolare del ventre della nostra timoniera interrompevamo di vogare per chiedere Mosca presente rispondeva lei maschio o femmina maschio che farà da grande allora lei dava la stura all'immaginazione nel modo più fantasioso erano racconti interminabili invenzioni mirabolanti dal giorno della nascita fino al trionfo finale fu tutto quel piccino nel sogno ingenuo appassionato e commovente di quella straordinaria piccola creatura che ora viveva a casta tra noi cinque chiamandoci i suoi cinque papà lo vide se lo descrisse marinaio scopritore di un nuovo mondo più grande dell'america generale che rendeva alla francia la sazia la lorena imperatore e fondatore di una dinastia di sovrani generosi e saggi che davano alla nostra patria una felicità definitiva sapiente che svelava il segreto della fabbricazione dell'oro e poi quello della vita eterna aeronauta che inventava il mezzo per visitare gli astri facendo degli spazi infiniti un'immensa passeggiata per gli uomini e realizzandone i sogni più imprevisti e più magnifici come fucare divertente povera piccola sino alla fine dell'estate e il 20 settembre quel sogno scoppiò come una bolla di sapone tornando dall'aver fatto colazione amazon lafitte passavamo davanti a saint germain quando mosca avendo sete ci chiese di fermarci al pec da un po' di tempo si sentiva sempre più pesante e questo la infastidiva molto non poteva più correre come prima né saltare dalla barca sulla riva come aveva sempre fatto ci provava ancora senza curarsi delle nostre proteste dei nostri sforzi per trattenerla e sarebbe caduta chissà quante volte nell'acqua se non l'avessimo afferrata a tempo quel giorno fu tanto imprudente da voler sbarcare prima che la iole si fosse fermata fu da parte sua una di quelle bravate che qualche volta costano la vita agli atleti malati o stanchi prima che fosse possibile prevenire il suo slancio nel momento stesso che stavamo per applaudare mosca si alzò di scatto e tentò di saltare sulla banchina debole come era toccò appena l'orlo con la punta di un piede inciampò urtò proprio col ventre sullo spigolo di pietra diede un grido e scomparve nell'acqua ci tuffammo tutti e cinque contemporaneamente e portammo a terra una povera creatura semisvenuta pallida come una morta che già soffriva di dolori atroci ci dovevamo affrettare a trasportarla nella locanda più vicina e a chiamare un medico per dieci ore sopportò con coraggio eroico orribili tortura e tutti noi restavamo intorno desolati frementi d'angoscia e di paura partorì un bambino già morto e per qualche giorno ancora avemmo gravi timori per la sua vita finalmente il medico ci disse una mattina credo che sia fuori pericolo è d'acciaio questa ragazza ed entrammo insieme nella camera col cuore pieno di gioia parlando a nome di tutti monocolo le disse sei salva moschina siamo tutti contenti allora per la seconda volta pianse in nostra presenza e con gli occhi velati dalle lacrime balbettò se sapeste se sapeste che dolore che dolore non mi consolerò mai di che moschina di averlo ucciso perché l'ho ucciso senza volerlo che dolore si inghiozzava e stavamo attorno commossi senza sapere che dirle riprese l'avete visto voi tutti a una voce rispondemmo sì bello non è vero esitammo molto ma telegramma il meno scrupoloso si decise ad affermare bellissimo fece male poiché cominciò a gemere quasi a urlare dalla disperazione allora monocolo che era quello che forse l'amava di più ebbe per calmarla una trovata geniale e baciandole gli occhi offuscati dalle lacrime consolati moschina consolati noi te ne faremo un altro il senso comico che lei aveva dentro di sé nelle midolla si destò di colpo ed un tono un po' convinto e un po' motteggiatore ancora in lacrime col cuore stretto dall'affanno guardandoci tutti domandò davvero e noi rispondemmo insieme davvero perché aspetta alla per l'argombe si a vieni a vieni vieni a vieni a vieni a vieni a vieni a vieni vieni vieni